Domanda, ci si può rilassare davvero in un solo minuto? Sì, si può fare, ma bisogna sviluppare un'abilità che ti spiego all'interno di questo video, che è un'abilità veramente preziosa e speciale, e una volta che hai sviluppato davvero queste abilità, è un po' come avere un superpotere. Questo video fa parte della categoria del benessere fisico e mentale, che fanno parte della Wellness University, è questo grande percorso che dura un anno, dove io prendo per mano le persone e le porto a sviluppare 5 aree del loro benessere, trasformando completamente la loro vita. Benessere fisico, benessere mentale, benessere emozionale, benessere relazionale e benessere finanziario. Oggi parliamo del rilassamento, di un ottimo livello di rilassamento, anche perché la maggior parte delle persone vive una vita estremamente frenetica. A volte andiamo a mille, sempre, sempre a mille, con molto livello di stress che va a crescere, e spesso anche con un livello di tensione, tensione fisica o tensione addirittura emotiva. Bisogna imparare a staccare, e a volte non abbiamo il vostro tempo per staccare, quindi imparare a fare questi piccoli cicli di rilassamento significa avere uno strumento nelle proprie mani straordinario. Ti spiego bene come si fa questo rilassamento, e poi dopo ti spiegherò quali sono le abilità fondamentali da sviluppare. Allora, il rilassamento si fa in questo modo qua. L'ideale è stare seduti, con gli occhi chiusi, la schiena dritta, e la prima cosa da fare è fare una respirazione 4-8, quindi ispirare con il diaframma, contando fino a 4, e respirare contando fino a 8 in maniera molto dolce. Se non sai come si respira con il diaframma, basta cercare su YouTube Mauro Pepe, respirazione diaframmale, e trovi vari video dove la spiego molto molto bene. Seconda cosa, fare un rilassamento di volto, soprattutto questa parte qui, questa parte qui, spalle, questa parte qui soprattutto, e gambe. Terza parte, svuotare la mente completamente, cioè proprio vuoto assoluto. Quarta parte, immergerti mentalmente in un luogo speciale che per te significa totale e completo rilassamento. Fare questa strategia bastano veramente pochi minuti, uno o due minuti, ma per poterla fare, devi sviluppare delle abilità, perché ti pongo la domanda, secondo te è facile in due minuti con questa strategia di rilassarsi? No, non lo è, ma si può fare. È fondamentale che tu sviluppi delle abilità, soprattutto tre abilità in particolare. Prima abilità, imparare a avere il controllo del diaframma. Per poterti rilassare velocemente, quando inizi a fare la respirazione 4-8, subito devi entrare in un controllo del diaframma. Subito il tuo diaframma si deve ammorbidire e si deve allungare in maniera corretta, e devi fare questo movimento in maniera corretta. E per poter avere un ottimo controllo del diaframma, c'è bisogno di fare tanto, tanto, tanto esercizio sugli esercizi di respirazione diaframmale. Io ti consiglio di fare due tipologie di respirazioni negli esercizi. Una di base, potrebbe essere anche la 4-8 che ti dicevo prima. Due, un allenamento respiratorio, che ti permette di avere maggiore controllo del diaframma, in alcuni casi di sbloccarlo addirittura. Potrebbe essere una respirazione 3-12-9, inspiri contando fino a 3, trattieni contando fino a 12 e espiri contando fino a 9 per 20 respirazioni consecutive. Oppure ci sono tantissimi altri allenamenti respiratori, come possono essere la quadrangolare, la 5-5-5-5, oppure la triangolare, eccetera eccetera. Su YouTube avrò fatto più di 15 video sulle respirazioni, perché sono fondamentali. La seconda abilità da sviluppare è svuotare la mente, che è complicato, non è per niente facile. Io ci ho messo tanto tempo per sviluppare questa abilità, soprattutto quando stiamo in un flusso di pensieri molto molto attivo, soprattutto quando viviamo momenti di stress molto forti, o momenti emotivi molto intensi, come la rabbia, l'ansia, la paura, la frustrazione, oppure stiamo con la sensazione di non avere tempo. Svuotare la mente in quei casi lì non è per niente facile. E anche lì bisogna allenarsi a farlo. Bisogna fare... Ci sono tante tipologie di allenamenti diverse. Ti dico quelli che funzionano di più. Uno sono le meditazioni mindfulness. Anche lì ho fatto tanti video a riguardo. Puoi cercare Mauro, Pepe, meditazione. Un'altra cosa fondamentale è imparare un'ottima gestione delle emozioni, perché devi imparare l'interruzione di modulo, imparare a lasciare andare a livello emotivo. Più impari a gestire le tue emozioni, più sarà facile svuotare la mente. E tre, è importante... Ma veramente importante... Imparare a lasciare andare. Lasciare andare, accettare velocemente quello che ci sta accadendo. Totalmente e velocemente. E poi lasciare andare, lasciare andare, lasciare andare. Questa abilità è preziosa. È un superpotere. Più tu impari a sviluppare questa abilità, più riesci velocemente a rilassarti con quella strategia che ti ho insegnato. Terza abilità è quella di creare un ancoraggio ad un luogo speciale, che per te significa rilassamento. Ti racconto il mio. Io ce ne ho vari. Te ne racconto uno. È quello di stare in collina, coricato sull'erba, con le mani dietro la schiena, un cappello di paglia sul volto, una spiga rigando in bocca. Vicino a me scorre un ruscello, c'è una temperatura ottimale, un venticello, e sento gli uccellini tra gli alberi che si muovono, gli uccellini che cantano, e io mi rilasso completamente. Sono così ancorato a quell'immagine che a me basta anche solo raccontarla per rilassarmi. Ovviamente quando tu hai controllo del diaframma, imparato a svuotare la mente, e un ancoraggio in luogo speciale, quell'esercizio diventa facile. Bastano uno o due minuti e ti sei rilassato davvero. A me è capitato una volta di farlo in una riunione, con gli occhi aperti, io non ce la faccio più, ero stremato, e con gli occhi aperti ho fatto un rilassamento per riprendermi un po' da quello che stava accadendo. Allora, qual è la cosa fondamentale da capire? Uno, esercizio quotidiano per sviluppare le abilità. Poi, quando hai sviluppato quelle abilità, davvero basta uno o due minuti per avere un rilassamento importante, a volte anche profondo, se lo fai davvero bene. Questa è una delle strategie, per esempio, che insegno nei miei percorsi. Nel corso Benessere 5.0 spiego tante strategie diverse, alcune veramente molto impattanti, strategie da 5 minuti che danno grandi risultati. Le persone stanno ottenendo veramente grandi, grandi risultati a frequentare questo corso. Ora abbiamo fatto già le prime due tappe a Napoli e Milano, ce ne saranno altre due tappe a Napoli e Milano. Contattaci, perché questo corso sta cambiando la vita alle persone. Scrivimi nei commenti quello che pensi, questo video finisce qui, io ti do un abbraccio affettuoso. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.